Salve ragazzi, qui siamo sempre dal tubo catodico e questa è la seconda puntata della serie di Adventure Minecraft. È già mattina e ora andremo ad esplorare in giro. Per prima cosa ci creeremo una cassa in modo da poter riporre gli oggetti, caso mai dovessimo morire. Riporremo gli oggetti qui e quando verremo respawnati qui dal letto, avremo ancora tutti gli oggetti. Perfetto. Ah, scusate, un'altra cosa. Ora, dato che andremo a raccogliere del legno, ci creeremo un'ascia. Un'ascia si crea così, due bastoncini, due stick e i tre cobblestone, se vogliamo farlo di roccia o tre di legno, messi qui. Perfetto, ci facciamo anche un altro piccone, intanto che ci siamo, perché quello che abbiamo di legno sta per rompersi. Io direi di piantare anche i germogli, in modo tale da poter avere degli alberi. Qui c'è sabbia, quindi non crescono. E perfetto, dobbiamo andare a prendere della legna. Di legna io non ne vedo, non vedo alberi. Ecco, qua ce ne sono, no, c'è solo questo. È troppo grande, non si fa faticare a rompere. Bene, allora andremo in quello là, da quei due là. A casa nostra si vede, perfetto. È stata una bella idea prendere quello lì come casa, perché è molto visibile anche da lontano. Quanta è? erba. Wow, della lava, fantastico. Cioè qui c'è un lago di lava. Strano, davvero insolito. A punto mentale, qua c'è un lago di lava. Là c'è una caverna, forse vedrò un'occhiata. La casa nostra si vede là, quella piccola, questa è troppo grande. Ok. Ah, come avete visto, questa puntata è in HD a differenza della prima, che invece è in standard quality, 480p. Questo perché ho risolto un piccolo problema che avevo con Fraps, che è il programma con cui registro i gameplay, come anche Monster Hunter. Infatti ora sarà HD, 1920x1080p. Wow, dei semi. I semi, giusto per informazione, servono per, si trovano pendolierba. E servono per, da piantare e quando crescono, danno origine al grano. E il grano, una volta maturo e raccolto, può essere utilizzato tramite una ricetta per creare il, per creare la torta. La torta è un metodo come la carne, oppure i biscotti, per creare, per recuperare la vita. Bene, prendiamo anche quest'albero. Il sole siamo tipo a mezzogiorno, più o meno. Ok. Stiamo disboscando quest'area. Adesso direi che possiamo cominciare a ripiantare qualche alberello. Uno lì, uno lì, uno qui, uno qui, uno lì, uno qua, uno qui, uno qua. Perfetto. E se volete, se volete avere il collegamento per, se volete scaricare anche voi Minecraft, ci sarà, ci metterò il collegamento per il mio video nella, nella descrizione. e andando lì potrete, ci saranno le istruzioni e il link per scaricare Minecraft gratuitamente. Così, se volete potrete giocare anche voi, se questo, questo gameplay vi ha interessato e Minecraft ancora non l'avete, sapete dove prenderlo. Dove prenderlo? Wow, una caverna. Qui è pieno di albi. Una cascata, che bella. Minecraft a volte offre degli scenari davvero bellissimi. Oh, del carbone. Questo serve. Piccone. Ok, preso. Io mi faccio male, io mi faccio male qui. Guarda che torno indietro. Là c'è il laghetto di lava, bellissimo. È una cosa stranissima il lago di lava, non l'ho mai visto. Ah! Ho cominciato a giocare a Minecraft dall'alpha, più o meno. E... Wow! Bellissimo. Tanto carbone. Del ferro, no? Che figata. Però per me ci devono essere i mostri. Un attimo. Sì, sono in art. Stiamo, non ci sono i mostri. Vabbò. Non lamentiamoci. Carbone, 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 carbone. E poi c'è il ferro. Purtroppo non mi sono fatto il piccone di pietra, altrimenti non potrei prendere il ferro. Stupidi picconi di legno inutili. Che ore sono poi? Andiamo a vedere. Perché se è quasi notte... Ok, ho ancora un ottimo di tempo. Prendo tutto il carbone e poi devo ricordarmi di tornare per prendere il ferro. Perfetto. Appena anche il ferro intanto che ci sono. Solo due però, schifo. Boh. Non ci sono mostri. Vabbè, non lamentiamoci. Eh... Sono vicino al lago di lava? Dal lago di lava? Sì, 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 sì. Ok. Che cosa mia è là? Ah, come faccio io... No, ma qui poi ho finito. Fate che mi piglio le torce. Perché tanto qua non ci tornerò più. Se c'è una caverna che mi ottizza. Vabbè, dai, dopo tornerò. Oh, qualche tipo... No, solo un po' di terra. Adesso farò una cosa... no ma che ferro aia speriamo anche si oh del carbone no qua ci devo tornare c'è troppa roba c'è del carbone lì lì c'è una grotta bella ok si torna a casa con davvero un bel po' di legna 39 di legna grezza che diventeranno 3x4x2 è 120 4x9 è 36 156 di legna più o meno ah no anche quei 7 lì 28 156 più 28 fa 160 180 più o meno 190 porca caccia era ok oh due alberi sono già cresciuti bellissimo perfetto riponiamo tutto nella cassa terra ferro carbone ora mettiamo anche i germogli la carne i semi raffiniamo la legna ok 28 e ok tantissima legna bene soddisfatto perfetto ok ragazzi direi che è notte quindi anche per questa puntata è tutto alla prossima puntata dal tubo catodico adventure in minecraft ciao